Il dispositivo display di segnalazione proietta un'immagine nel campo visivo del conducente a una distanza virtuale di due metri. Quindi, senza distogliere lo sguardo dalla strada, il conducente è in grado di accedere alle informazioni di guida e navigazione, ad esempio alla velocità attuale, al sistema di navigazione, all'avviso di velocità eccessiva e alla funzionalità di assistenza alla guida. Lo schermo retrattile dove vengono visualizzate le informazioni di guida a colori ad alta risoluzione viene attivato con l'accensione del motore e si ritrae quando il motore viene spento. È semplice e intuitivo dal punto di vista ergonomico grazie all'utilizzo di soli simboli e pittogrammi. L'altezza delle informazioni sul display può essere regolata tramite lo schermo multifunzione.